Che merda di film Ma si Facciamo video di entrare Ma che ora facciamo video di uscire C'è su Ma sono venuti buttati Di lui io Aspetta aspetta però c'è un problema Si vede il nickname sopra Puoi aprire il bagaglio della macchina? Togli l'arma dalla mano Ragazzo Beh film fallita pure Ma la nostra macchina? E' attore Ti immagini il registro che stiamo portando noi fruco nell'app lo rubiamo Il film di me Ahahahahaha Ahahahahahahah IR Ahahahm Ch..." è una bella scena è morto per sbattare dove si riprotevamo ahia che morte questa è morte da oscar questa era una morte da oscar vincere ma mia stanno di premio non lo so perfetto vengono perfetto vai facciamolo si cazzo che film è che organizzazione merda non è hai urtato di nuovo si ma sti cazzo come fai a urtare è rovinato mi fa entrare come l'ho è occupato è occupato è occupato è occupato è occupato è occupato mi fa entrare è occupato Grazie a tutti.